La campana ha già suonato. Là, nelle tenebre, in mezzo alle stelle, il Dio è morto. Ho fatto un sogno. Quasi una premonizione. Credo ci sia un attacco in arrivo. Mio signore, questo mondo cadrà. Ho bisogno di guerrieri. Sto creando un'alleanza per poterci difendere. Come va a sapere che è abbastanza forte? Se non sa se può battere il toro che carica, non gli sventoli davanti un mantello rosso. Sei stato mandato qui per un motivo. E anche se tu dovessi metterci tutta la vita, lo devi a te stesso scoprire questo motivo. hanno detto che l'età degli eroi non sarebbe più tornata. Tornerà. Per forza. Viviamo in una società in cui l'onore è un lontano ricordo. Pregnata. 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 Grazie a tutti